Hi everybody! We are in Bardolino, Lago di Garda, Italy! Ciao a tutti! Siamo a Bardolino, sul Lago di Garda. Questa è una magnifica località, sicuramente una delle mie preferite, tra quelle che troviamo qui sul Lago di Garda. Hi everybody! We are in Bardolino, on Lake Garda. This beautiful town is undoubtedly one of my favorites among those on Lake Garda. Cosa mi piace di Bardolino? La bella passeggiata sul lungolago, il centro con i negozi e l'ampia spiaggia. What do I like about Bardolino? The beautiful walk along the lakeside, the center with the shops and the wide beach. Mi piace moltissimo anche ammirare il tramonto, col sole che si nasconde gradualmente dietro le montagne, i magnifici colori del tramonto e le luci di Bardolino che si riflettono sul lago. I also love to admire the sunset, the sun that gradually hides behind the mountains, the beautiful sky colors and the lights of Bardolino reflecting on the lake. Per questo ti invito a guardare questo video anche verso la sua metà, dove proprio vedi il tramonto e nella parte finale, dove vedi le luci di Bardolino riflesse nell'acqua del lago. This is why I invite you to watch this video in itself, where you see the sunset and the final part, where you see the lights of Bardolino reflected in the lake water. This one is sitting. This one is hissing. Look who I was eating. It is sick to me, though. This one is eating too. The kids are... Grazie. Grazie. C'è anche un cignolo. La grossa botte che abbiamo davanti a noi è la botte gigante con la scritta I Love Bardolino. L'hai vista anche all'inizio del video. La big wine bottle in front of us is the giant wine bottle with the words I Love Bardolino. You also saw it at the beginning of the video. Grazie. Perché una botte? Non vogliamo disturbarti. Grazie. 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 Combini. Grazie. 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 Puoi venire qui a Bardolino per diverse ragioni Per un po' di relax, per un buon aperitivo, per una passeggiata Ma anche può essere il tuo punto di partenza per raggiungere in battello altre magnifiche località del lago di Garda Puoi venire a Bardolino per diverse ragioni, per rilassare, per un buon aperitivo o per un lavoro Ma Bardolino può anche essere il tuo punto di partenza per arrivare a altri miei posti sull'aggarda Per un buon aperitivo o per un buon aperitivo Per un buon aperitivo e pe cervellino che hao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questa direzione, arrivi alla piazza. Ora, godiamoci in tranquillità il tramonto e la nostra passeggiata serale. Now, let's enjoy quietly the sunset and our evening walk. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.